Ciao a tutti, sono Filippo, lavoro a cambiavalute.ch e in questo breve video vi spiegherò come funziona il servizio. Quali sono i limiti di importo per ciascuna operazione? È possibile cambiare più di 5.000 franchi? Ciascuna operazione di cambio è soggetta, per regolamento, ad un importo massimo di 5.000 franchi o equivalenti. Questo significa che tu, registrandoti al sito cambiavalute.ch, potrai ordinare cambi che non superano l'importo di 5.000 franchi o euro. Per poter cambiare più di 5.000 franchi nella singola operazione o più di 5.000 euro nella singola operazione, è necessario che tu contatti il nostro servizio clienti. Ti verranno fornite tutte le informazioni necessarie per completare la cosiddetta identificazione completa. Il servizio è sicuro? Mi posso fidare? Cambiavalute.ch è molto sicuro. Perché? Perché prima di tutto si usano i bonifici bancari, quindi il denaro non può essere perso. Semplicemente se si sbagliasse qualche dato nel pagamento, il denaro ritornerà a chi l'ha inviato. Cambiavalute.ch inoltre è un intermediario finanziario regolamentato in Svizzera, detiene la licenza di cambista in Svizzera e è titolare di una polizza RC professionale. Il servizio è disponibile anche per le società, per le ditte? Sì, cambiavalute.ch è disponibile sia per le persone normali sia per le ditte. Quindi se la tua società, la tua azienda, dovesse aver bisogno del nostro servizio, è sufficiente che ci contatti un responsabile o chi per esso e gli forniremo tutte le informazioni del caso. Tieni presente che la procedura per poter attivare il servizio di cambio per una ditta, per una società, è un po' più macchinosa, ma niente di impossibile. Grazie a tutti.